L'eterno riposo donna loro Signore e splenda ad essi la luce perpetua. Qual è il valore di questa iniziativa oggi qui al Cimitero del Verano? È la presenza di tutta la Chiesa italiana in questo momento di dolore. Oggi ogni Vescovo si recherà, se ho già forse qualcuno recato, al Cimitero della propria Diocesi per coloro che sono morti, soprattutto per coloro che sono in questi giorni morti tragicamente nel dolore, nella sofferenza. Tutti ci sentiamo presi da questo momento di grande sconforto, ma dobbiamo in questo momento avere sempre tanta fede nel Signore. Oggi ci troviamo in una pandemia che sta attraversando il mondo intero. Dobbiamo forse anche chiederci allora che cosa può significare questo, che cosa il Signore vuole anche dirci attraverso questa realtà della storia che stiamo vivendo. Deve essere allora un momento certamente di unione con tutti i nostri cari defunti, perché il Signore abbia misericordia di ognuno di loro, veda le loro sofferenze, li accolga nella sua bontà, ma anche per noi che continuiamo a vivere nel mondo e nella storia, perché possiamo essere ripieni di questa speranza.